ciao amici sapete che con l'età è normale che si abbassino i livelli di testosterone però ci sono delle abitudini nocive che possono abbassare il testosterone anche in età più giovane squaletto dice che lui è un uomo verace e non gli scenderà mai senza una giusta strategia è inevitabile lo spiego sempre ai maschietti durante i miei coaching del sistema di salute naturale fare prevenzione e prendersi cura della salute con l'aiuto della naturopatia non è una cosa da donne o da mammolette ma può essere una qualità maschile come la cura dell'aspetto la prestanza fisica e il successo negli affari vediamo allora insieme sei trucchi per aumentare naturalmente il testosterone se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi uno evitare lo stress lo stress non solo quello emotivo ma quello causato da alcol fumo mancanza di sonno rapporti negativi consumo di cibo spazzatura influisce negativamente sui livelli di testosterone infatti lo stress aumenta il cortisolo l'ormone dello stress che tende a ridurre il testosterone 2 fitness troppo complesso per stimolare il testosterone bisogna concentrarsi su esercizi brevi e intensi se parliamo di corpo libero sono ottimi squat flessioni addominali in palestra prediligere bench press deadlift squat con peso vogatore 3 stop a diete fame o abbuffate ogni pasto scarso non variegato e squilibrato può danneggiare i livelli ormonali perciò ogni dieta eccessiva ma anche ogni abbuffata possono essere pericolosi le conseguenze sono molte sbalzi di umore appetito fuori controllo problemi di concentrazione capogiri mancanza di energia e cali di testosterone ogni macronutriente ricopre un ruolo fondamentale nella sintesi del testosterone per questo un'alimentazione equilibrata e sana è fondamentale per la salute ormonale maschile 4 raggi solari e vitamina d grazie all'esposizione ai raggi uvb la pelle assimila e produce la vitamina d questa vitamina è direttamente collegata ai livelli di testosterone è importante passare del tempo all'aria aperta ed esporsi alla luce solare nei periodi invernali o di forte stress si può ricorrere a un buon integratore trovate un buon prodotto che ho selezionato per voi in descrizione 5 dormire a sufficienza il riposo notturno è fondamentale per regolare i livelli di testosterone se andate a letto troppo tardi dormite poco e male il testosterone ne risente molto gli studi condotti affermano che la mancanza di sonno lo riduce del 15 per cento 6 alimenti che aumentano il testosterone è importante fare attenzione ai micronutrienti ovvero alle vitamine e ai minerali garantiscono un'ottima salute e un livello ottimale di testosterone in particolare il magnesio è strettamente legato alla produzione del testosterone si trova in avocado broccoli ceci spinaci piselli avena riso integrale cavolo cappuccio mandorle anacardi e semi a volte può comunque essere necessario un integratore di magnesio ne ho selezionato uno per voi in descrizione 7 non abbattersi ricordate che è sempre possibile migliorare la salute con le giuste abitudini di fronte a stress salute non proprio ottima e anche se non siamo più giovanissimi fare prevenzione e avere un atteggiamento positivo è sempre meglio di non fare nulla bene amici oggi abbiamo visto come aumentare il testosterone in modo naturale ed ecco il regalino di oggi la checklist delle buone abitudini per aumentare il testosterone la potete scaricare gratis dal link in descrizione qui sotto vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di simona vignali